Finalmente l'attesa è finita. Oggi Armando Testa svela in anteprima da DV Express il nuovo corso della comunicazione Tenderly. Lucar Group infatti ha scelto proprio l'Armando Testa per il nuovo format di questo Love Brand. Ecco perché noi oggi incontriamo Michele Mariani, direttore creativo esecutivo sul progetto, e gli chiediamo di raccontarci proprio la storia di questa nuova storia. Ok, intanto grazie. Noi siamo ovviamente molto soddisfatti di lavorare con una marca italiana, una marca che ha una bella storia, una bella storia familiare, imprenditoriale, di successo. Una marca che non solo fa prodotti buoni, ma che è anche impegnata sui valori della sostenibilità, della sensibilità e del rispetto. È una marca che soprattutto ha un percorso in comunicazione solido, preciso e coerente. Quindi quando siamo stati invitati alla gara abbiamo detto sarebbe bellissimo poter lavorare con un cliente così. Poi quello che abbiamo fatto rispetto alla campagna abbiamo semplicemente messo al centro quello che è un codice della marca, parliamo di tenerezza, tendergli tenerezza. La tenerezza è un valore universale, è un valore che piace ai bambini, piace ai grandi, è un valore probabilmente da riscoprire in un momento come questo dove il mondo si è fatto un po' più arido, forse un po' più complicato, un po' più spigoloso, quindi ci piaceva tornare a parlare di tenerezza, anche perché tenerezza confina con dolcezza, con gentilezza, con attenzione, con rispetto, con cura, insomma tutti i valori che ci sembravano abbastanza rilevanti in un momento come questo. Ecco, voi avete scelto di mettere al centro della campagna i bambini, no? Che valore hanno questi personaggi così tenere, appunto, così formalmente proprio e legati al brand? Quando parliamo di tenerezza ovviamente l'equazione con i bambini è un'equazione molto diretta, ma ci piacevano i bambini perché sono nel nostro caso i testimoni più potenti e più credibili di questi argomenti, i bambini non hanno pregiudizi, non hanno le preoccupazioni di noi grandi, hanno questa capacità di guardare il mondo con occhi un po' speciali, quindi ci piaceva molto che questo messaggio arrivasse proprio da loro, rivolto a noi più grandi, quindi abbiamo utilizzato come megafono di questa sorta di manifesto programmatico sulla tenerezza, fatto da loro, rivolto a noi. E oggi Tenderly con questa campagna a chi parla, chi si rivolge? Tenderly parla in modo prioritario a un pubblico femminile, quindi responsabile di acquisto, quindi da donne da 40 anni, ma sappiamo che il prodotto è un prodotto interessante, ha facilità molto diverse, abbiamo costruito questa connessione emotiva sulla tenerezza anche perché sapevamo che dovevamo parlare a un pubblico di questo tipo. Vediamo, entriamo nel dettaglio della strategia, perché noi oggi vediamo lo spot tv, ma è solo l'inizio di un ecosistema molto più ampio, proprio in stile Armando Testa. Sì, ovviamente tutti i progetti a cui lavoriamo negli ultimi anni ormai hanno questa caratteristica, non ci viene chiesto più un singolo spot, ma c'è sempre il bisogno, la necessità di costruire un ecosistema più ricco, più articolato, dove spesso la televisione ancora guida, ma viene utilizzata in modo diverso, estremamente connessa con tutti gli altri touch point. Anche in questo caso, lavorando in questo modo, cercando quindi di essere connessi al nostro pubblico, abbiamo un vantaggio, i bambini sono dei perfetti testimoni anche nei canali social, diventano per noi dei tenders, cioè quelli che nei social saranno i portavoce di questa nuova istanza sulla tenerezza e anche con dei bold moment durante l'anno invece per sostenere magari dei lanci o dei prodotti particolari. Una campagna a tutto tondo, con un messaggio che mette al centro la tenerezza, con quali obiettivi per il brand? Gli obiettivi sono di confermare quello che la marca fa bene da anni, quindi di risottolineare il focus su questo aspetto della tenerezza, che è una caratteristica di prodotto ma diventa quasi un valore di marca, quindi di suggerire di nuovo notorietà, di consolidare questo aspetto, e in qualche modo quello che ci piaceva di farlo però in un tono un po' più lieve e leggero. Come dicevo prima, adesso la comunicazione rischia di essere un po', forse di risentire un po' del mondo che ci circonda, quindi tutte le marche sono alla ricerca di nuovi territori per incrociare i consumatori, sono anche alla ricerca di nuovi valori da comunicare per connettersi con loro. Quello che mi sento di dire è che forse tutto questo, dal nostro punto di vista, andrebbe trattato qualche volta con un po' più di ironia, un po' più di leggerezza, Armando Testa in tempi non sospetti ci suggeriva che era importante entrare nelle case degli spettatori in modo leggero, in modo gentile, perché poi la gente non è interessata alla pubblicità, è interessata solo alla pubblicità quando diventa interessante, quindi è importante una sorta di scambio che facciamo con il nostro pubblico, noi chiediamo attenzione e dobbiamo dare in cambio qualcosa, se questo è qualcosa, è un sorriso, è un'emozione, il pubblico ci guarda con più attenzione evidentemente. Armando Testa da sempre coniuga grande storicità, know-how, con anche grande innovazione e capacità proprio di stare al passo con tempi, anche di anticipare i trend. Ecco, come questa campagna un po' riflette l'offerta multivariegata dell'agenzia? Noi abbiamo cercato di essere molto autentici e molto spontanei, che sono caratteristiche che la marca in qualche modo domina o veicola, quindi abbiamo cercato un linguaggio senza troppi filtri, senza troppe sovraimpressioni, per arrivare in modo diretto al nostro pubblico ovviamente, e l'idea che i bambini abbiano questa cosa da dirci, abbiano un messaggio per noi grande, ci urlano, ehi ascoltateci, per dirci, guardate che la tenerezza non riguarda solo noi, ma riguarda un po' tutti, non solo i bambini, e bisogna avere forza e coraggio per essere teneri tutti i giorni, tutti i giorni ci piaceva proprio questo aspetto, che il messaggio arrivi dai più piccoli rivolto a noi grandi, e qualche volta sembra che ci dimentichiamo un po' di questo aspetto. In agenzia è in corso un fortissimo processo di rinnovamento che riguarda tutte le aree sensibili, ovviamente senza rinnegare il nostro DNA, che è quello del primato, della creatività. Ci piace essere popolari, speriamo che questa campagna lo sia, ci piace essere popolari nel senso più nobile di questa parola, e in questo momento proprio per riuscire ad essere popolari sappiamo che dobbiamo potenziare e innovare continuamente lo stile della creatività, sappiamo che dobbiamo rinforzare tutto quello che riguarda la parte social, digital e tech, e sappiamo che dobbiamo essere molto attenti nella strategia, perché poi le campagne più interessanti nascono da un ascolto, del sentiment delle persone e dei consumatori. Quindi in questo momento in agenzia stiamo lavorando su queste tre aree con molto impegno.